Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. La questione della sicurezza a Vicenza è stato il tema dell'incontro organizzato lunedì scorso da ConfCommercio Vicenza nella propria sede provinciale. All'appuntamento hanno risposto oltre 150 tra titolari e collaboratori delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della città. E al tavolo, oltre al presidente provinciale di ConfCommercio Vicenza, Nicola Piccolo, con il direttore dell'associazione Ernesto Boschiero, c'erano anche il questore della provincia di Vicenza, Paolo Sartori, il sindaco della città, Giacomo Possamai, accompagnato dal comandante della polizia locale, Massimo Parolin. Obiettivo dell'incontro? Stringere ancora più il dialogo tra operatori e istituzioni per agire e dialogare assieme, al fine di trovare soluzioni al degrado e alla criminalità, anche a fronte dei recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto alcune imprese del settore. A cominciare dalla necessità di un maggior presidio del territorio, possibile solo attraverso l'aumento degli organici delle forze di polizia, un'esigenza di cui ConfCommercio Vicenza si sta già facendo portavoce verso le istituzioni competenti. Ma sentiamo innanzitutto l'intervista raccolta a fine incontro da Anna Iselle, della redazione di TVA Notizie, con il presidente Nicola Piccolo. Presidente, le richieste di questa sera c'erano, erano tante, com'è andata? È andata bene, l'assemblea è stata partecipata in maniera importante dagli operatori del commercio, turismo e servizi della nostra organizzazione, sintomo che il tema sicurezza è un tema che ci tocca e ci tocca in maniera importante. Abbiamo sottoposto, hanno sottoposto anche i presenti delle domande specifiche per quanto riguarda la sicurezza. Penso che l'incontro di oggi abbia fatto sicuramente chiarezza sui ruoli delle forze dell'ordine, sulle leggi e i modi in cui possono operare, con dei numeri oggettivi. Ci sono degli impegni, impegni naturalmente che riguardano una vigilanza maggiore, il vigile del quartiere. Abbiamo sollecitato quelli che sono i tempi di entrata in vigore anche di questo servizio. L'importante, voglio sottolineare, a parte che anche il questore ha sottolineato, della denuncia, lasciamo traccia per una città più sicura. Per quanto riguarda una videosorveglianza attiva, videoallarme, sistemi antirapina, sicuramente possono essere un deterrente. Detto ciò, in mezzo ci sta anche una spesa economica di fuoriuscita che deve essere contabilizzata nei bilanci di ciascuno. Per questo lavoreremo per trovare risorse con dei fondi regionali, con dei fondi magari della Camera di Commercio. Ho chiesto anche al Comune di intervenire in merito a quello. Ci sono delle situazioni di legge. Naturalmente la competenza di portarla avanti è a livello romano e su questo, a livello nazionale, spingeremo anche per categoria perché è importante che chi delinqui paghi. Oggi occorre avere una fiducia dell'istituzione ancora maggiore rispetto al passato. È la collaborazione di tutti gli attori che portano più sicurezza in città. E su questo noi stiamo lavorando e lavoreremo sempre a fianco delle forze dell'ordine. Nel suo intervento all'incontro in questione di Vicenza Paolo Sartori ha innanzitutto voluto inquadrare la questione sicurezza sia dal punto di vista delle competenze sia da quello normativo. Per poi passare ad una disamina dei dati dai quali risulta che a Vicenza gli episodi criminosi negli anni sono in realtà calati. Come dire, la sicurezza reale è migliore della sicurezza percepita. Sentiamo allora il servizio sempre di Anna Iselle che ha raccolto quanto detto dal questore Paolo Sartori e dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Denunciare, segnalare, prima ancora di andare sui social, fare intervenire le forze dell'ordine proprio perché un intervento immediato con sistemi di sicurezza e sistemi di videosorveglianza efficaci ci consentono di fare non solo prevenzione ma anche di intervenire per individuare gli eventuali responsabili. È l'appello lanciato dal questore a tutti i commercianti perché da un lato c'è la sicurezza o meglio l'insicurezza da loro percepita. Dall'altro però ci sono i numeri. La provincia è al 71esimo posto in Italia per l'Indice di Criminalità 2022. Sono infatti 2.380 i furti dall'inizio dell'anno. Nel 2004 erano stati 3.780. Dati in calo dunque rispetto al passato ma ogni giorno vengono comunque denunciati alle forze dell'ordine 9 furti o tentativi di furto. 270 ogni mese. Se i cittadini sono preoccupati, se i commercianti sono preoccupati è giusto che sia preoccupato anche il sindaco. Mi preoccupa per esempio l'aumento della tossicodipendenza. Su questo è necessario un impegno da parte di tutti. 100 le persone allontanate dalla provincia nel 2023 tutti i clandestini irregolari 43 gli esercizi commerciali chiusi 117 fogli di vie 85 avvisi orali aumentati i controlli 81 quelli straordinari e poi le pattuglie a piedi in centro città da giovedì alla domenica. Soprattutto verrà incentivata un'interazione costante con i singoli commercianti. Bisogna comunicare bisogna che chiunque sia un attore rappresenti una parte attrice nell'ambito di questa problematica quindi devono essere consapevoli che un'interazione costante possono far crescere tutti. Abbiamo già chiesto alla Polizia Locale in centro storico di svolgere i servizi a piedi di entrare nei negozi di avere un rapporto diretto con i commercianti e con i cittadini. La stessa cosa la vogliamo fare molto presto anche nei quartieri istituendo i vigili di quartiere. Allarmi e video sorveglianza nei negozi sono fondamentali torna a ribadirlo anche il questore. Dall'altro lato in città saranno installate più telecamere nelle zone critiche e nuovi targa system. Appuntamento mercoledì 11 ottobre alle 15 nella sala della sede mandamentale Confcommercio di via Battaglione Valleugra 39 per l'incontro organizzato dall'associazione 50 e più con i carabinieri per parlare di come prevenire truffe e microcriminalità. L'incontro al quale saranno presenti il presidente provinciale della 50 e più Fiorenzo Marcato e presidente di Confcommercio di Schio Guido Xoccato nasce in collaborazione con il comando provinciale dei carabinieri. Nell'occasione il capitano Francesco Grasso comandante della compagnia carabinieri di Schio stillerà un elenco di raccomandazioni utili per rimanere il più possibile guardinghi di fronte a stratagemmi ed approcci strani che hanno come vittime predestinate soprattutto gli anziani. Vederci bene è importante e farlo avendo la giusta attenzione al proprio benessere visivo è fondamentale. Questo concetto è la base dell'iniziativa Ottobre e Mese della Vista 2023. Sei sicuro di avere la giusta correzione? La tradizionale campagna promossa da Federottica a Covcommercio e dall'albo degli ottici optometristi. Anche in provincia di Vicenza sono una quarantina i centri ottici che sino al 31 ottobre offrono un controllo gratuito dell'efficienza visiva un'opportunità e un servizio ai cittadini per spiegare l'importanza della giusta correzione del miglior benessere della visione possibile. Un'iniziativa importante anche perché secondo i dati raccolti dalla Commissione Difesa Vista Onlus e riportati nella campagna nazionale di Federottica a Covcommercio il 66% degli italiani che ha difetti visibili non è consapevole. Quasi il 20% degli adulti indossa una correzione visiva non più adeguata alle proprie necessità e circa il 40% della popolazione non si recca regolarmente a fare una visita dall'oftamologo. Se si aggiunge poi il fatto che la popolazione invecchia sempre di più il rischio è che queste percentuali crescano ancora creando una vera e propria emergenza. I centri ottici associati Federottica della provincia che aderiscono alla campagna Ottobre Mese della Vista 2023 espongono la relativa locandina e l'elenco è consultabile sul sito di Covcommercio Vicenza www.ascom.v.it Ed ora le proposte di Esaca Formazione Esaca Formazione propone il corso Gestire positivamente il reclamo per costruire Fidelizzazione una formazione a distanza che si svolge martedì 17-24 ottobre 7-14-21 novembre dalle 20 alle 22 e 30 il corso fornisce metodi e strumenti per gestire reclami ed altre richieste del cliente al fine di migliorare il servizio e sviluppare buone pratiche aziendali. Dal 19 ottobre al 14 dicembre ogni lunedì e giovedì dalle 20 alle 22 e 30 il corso Social Media Specialist una formazione a distanza per creare la figura che un'azienda progetta gestisce e conosce le caratteristiche e specificità di diversi Social Media e criteri di targetizzazione del pubblico ha competenze nella produzione di contenuti e nelle tecniche per intercettare nuovi leads ed interagire sui social L'Università del Gusto propone il corso per professionisti La carne in cucina è logico della tradizione con Alessandro Daldegan Lunedì 16 ottobre dalle 9.30 alle 15.30 Lo chef della Tana Gourmet di Asiago reinterpreta alcuni classici della cucina di carne attraverso ricette e metodi di cottura che dà novità a piatti raffinati ed innovativi protagonisti il piccione la quaglia l'interiore di vitello la guancia del manzo ed il maiale infine è corso per professionisti in Natale in macelleria speciale a Rossi che si terrà mercoledì 15 novembre dalle 14.30 alle 18.30 il corso permetterà di apprendere le tecniche di preparazione di varie tipologie di arrossi per sviluppare o integrare la propria linea da banco durante il periodo natalizio a richiedere l'offerta della macelleria ed ora l'agenda lunedì alle 20 consiglio della delegazione comunale di Schiavon mercoledì alle 15 incontro della 50 e più come difendersi dalla criminalità alle 20 consiglio della delegazione comunale di Barbarano Mossano alle 20 consiglio della delegazione comunale di Camisano Vicentino alle 20.40 consiglio della delegazione comunale di Grisignano di Zocco giovedì alle 14.15 consiglio della sezione territoriale 4 di Vicenza e per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizia è davvero tutto vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento a domenica prossima una rivederci e buona settimana Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.